Grazie Celeste, grazie agli ospiti, anche questa sessione sembra che ci abbia dato tanti spunti di lavoro futuro e dobbiamo anche io citare il Social Forum per l'abitare che si svolgerà a Bologna nel 18-20 di aprile noi siamo dentro questa grande rete con soggetti molto diversi di lavoro che stanno promuovendo anche tanti appuntamenti sul territorio ci saranno anche a Milano in breve sempre al 5-0 a Torino, ci saranno a Torino molto partecipato ci saranno a Roma, a Napoli, in tante città per arrivare a questo Social Forum per l'abitare che sarà un po' un momento di ripresa di un movimento sull'abitare quindi non solo su una casa, ma sull'abitare che farà anche il promosso delle ottenze su questi libri ricordo anche che stasera avremo con noi Alessandro Garnini che è professore di sociologia culturale alla Statale di Milano con Canerina Croce, la Fondazione Gentilene, il Popol Versi, il Presidentone del Luca del Ciro del Naci che aprirà la proiezione di questo anno come vi ho già detto e vi ripeto che è un grande film di questo momento adesso diamo qui Rossella Vieri che vorrò che vi renderà questo panel successivo abbastanza nuovo per noi perché è vero che siamo facendo dei congressi sui citati ma qui ci metteremo a criticare il digitale fortemente pregresso allora